Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video No, aspetta, ci metto un po' più di spirito natalizio Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video Oggi 24 dicembre, io tornerò a lavoro, ci vediamo stasera Nel frattempo guardatevi come ho preparato addobbato la labbra di Natale e il presepe Buona visione! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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